I risvolti sono duplici, uno riguarda la riconferma degli investimenti e dei passavanti sulla riconversione green, quindi gli appalti per la fornitura e la strumentazione saranno chiusi a maggio, la gara per la fornitura dello steam reforming sarà chiusa anch'essa a maggio e l'avvio delle procedure alla modifica sostanziale dell'AIA già ad aprile Eni sarà in grado di presentarle. A queste si aggiungono tutta una serie di attività riguardanti il risanamento ambientale che vedono in questo momento assorbire circa 400 persone, quindi tra precantiere della raffiniera green e cantiere di bonifica, altri ne verranno autorizzati a breve credo che già a maggio ci sarà una convenza dei servizi alla regione per chiudere il procedimento sull'ISAF quindi con l'avvio di uno dei più grandi cantieri di bonifica attesi da decenni. A questo si aggiungono positivamente tutta una serie di iniziative che Eni ha presentato di cui si era già discorso in passato, guarda ad esempio le tecnologie per produrre bioolio da rifiuti umidi, le tecnologie di bonifica con bioremediation e fitoremediation in area SIN l'attività per lo sviluppo di una stazione genella sul Mediterraneo, tutte attività che verranno chiusi credo in un paese di settimane con accordi dedicati tra amministrazione comunale, regione, Eni ed eventuali altri enti competenti. Alcune perplessità invece sono state mosse riguardanti la parte afferente al grosso degli investimenti relativi all'upstream, si vede un po' di incertezza legato a questa farraggiosità delle procedure che vedono ad esempio attendere adesso, giorno 9 giugno, una sentenza di Stato per dirimere la questione piattaforma sì, piattaforma no. Micica e la Gymnastics Club continuano a mietere successi, questa volta parliamo però della Serie D la gara è andata bene, vice campioni regionali. Ottimo direi perché sono strafelici, anzi siamo strafelici, stiamo festeggiando per questa è la seconda prova la prima l'abbiamo fatto mesi fa e in questa seconda prova abbiamo alzato il numero del punteggio quindi significa che nel frattempo abbiamo lavorato in maniera ancora più incisiva e a confronto con le 26 squadre di tutta la Sicilia siamo saliti sul secondo gradino del podio. La differenza tra noi e la prima classificata è stata di 0 a 450, significa meno di mezzo punto quasi per capirci uno squilibrio di una testa o di una mano. Adesso avete ottenuto però il pass per le nazionali, dove si svolgeranno, quando e quanti atleti saranno impegnati? Ricordiamo intanto che le atleti sono state allenate da Esther Greco e Luigi Di Tavi che già hanno messo mani ai nuovi allenamenti per la finale nazionale che si farà a Pesaro il prossimo giugno. Quanti atleti parteciperanno? Sono quattro ginnaste, categoria sessione femminile. Sciopero da parte dei dipendenti dalla società Sud Elettra, gli operai si sono ritrovati questa mattina dinanzi allo stabilimento Eni di Gela. Chiedono il pagamento immediato dei stipendi elettrati e soprattutto vogliono notizie certe sul loro futuro. La situazione si è fatta problematica in un momento in cui il settore industriale soffre. Stiamo protestando perché abbiamo problemi per quanto riguarda l'occupazione che attualmente è in corso qua nello stabilimento e il datore di lavoro attualmente ci pone in vero obbligatorio e non retribuisce i lavoratori con lo stipendio. Quindi viene a mancare lo stipendio ordinario alle persone e non si attiva per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che potrebbe usufruire di cassa integrazione o solidarietà. Preferisce anticipare nuove mensilità per licenziare le persone e non usufruire di questo ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda la crisi attualmente che c'è nello stabilimento i lavori che al mese si sono detti che dovranno riprendere la società attualmente si ostina a porre le persone in mobilità. Quindi noi siamo persone danneggiate, quindi non stiamo protestando per danneggiare un'azienda stiamo protestando perché non possiamo mantenere le nostre famiglie. Ognuno di noi ha delle spese da sostenere mensilmente. A manifestare con gli operai c'era anche Orazio Cauci della Fiumo Cigella. Oggi c'è un settino di proteste a due ore di sciopero dalle 10 a mezzogiorno che è relativa ad una serie di ore di sciopero che abbiamo attuato come organizzazione sindacale nei confronti della Sud Eletta perché continua nella sua azione di ridimensionamento del personale a fronte della proposta nostra di attivazione di uno strumento che potrebbe essere cassa integrazione ordinaria o quello derivante dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi la deroga. Noi siamo per l'occupazione e quindi vogliamo che i lavoratori siano legati all'azienda rigettiamo con forza questa posizione rigida dell'azienda. Oltre a questo c'è da denunciare che l'azienda da alcuni mesi ritarda nel pagamento degli stipendi o non corrisponde ai lavoratori il giusto dovuto in termini di anticipo di ferie o di indennità di malattia e di altre forme contrattuali. Infatti abbiamo scritto una lettera all'ENI che si sta attivando per cercare di regolarizzare la situazione perché rientra tutto nell'accordo del protocollo di legalità. Anche al Comune di Gela è possibile sottoscrivere la proposta di legge d'iniziativa popolare sulla legittima difesa e la violazione di domicilio. Il testo prevede il raddoppio delle pene per la violazione del domicilio è l'esclusione da responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora oltre ad ampliare la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell'eccesso colposo. È possibile aderire alla proposta di legge recandosi all'ufficio elettorale per la sottoscrizione dei moduli di adesione. Una proposta di legge è portata avanti da Italia De Valori ma che serve a tutelare quel luogo dove noi ci sentiamo forse più sicuri che è proprio il proprio domicilio. Fino adesso viene considerata la stregua di un luogo pubblico ma sappiamo che non è così. La casa è il nostro rifugio, è dove cerchiamo protezione e tutela ed è il nostro sagrato dove non è giusto che qualcuno possa entrare impunemente e noi per giunto subirne le cause. Quindi con questo disegno di legge si porta finalmente ad inesprire le pene per chi è che viole il domicilio. Non si pagheranno più i danni per chi dovesse proprio volare il domicilio e poi si fa male quindi oltre il danno la beffa si viene condannato a risarcire i danni a chi è che viene a casa nostra se si dovesse fare male. E terzo, il punto forse molto importante, quello che non ci saranno più reati e nemmeno condanne è per chi difende il proprio domicilio da un'infrazione anche perché ci sono situazioni istantanee, naturali che sono fuori dagli schemi normali. Uno che si trova la notte un ladro dentro casa ha la reazione non sa nemmeno com'è e certe volte può essere anche drammatica ma sicuramente non l'ha cercato il proprietario della casa. Quindi ritorniamo a stabilire dei concetti fondamentali che la legge sia uguale per tutto ma anche la propria abitazione credo che sia un luogo inviolabile e quindi questo disegno di legge serve proprio per cominciare a dare quelle sicurezze di cui i cittadini hanno bisogno. La petizione è attiva negli orari di ufficio e gli interessati dovranno presentarsi muniti della carta d'identità. Polemiche, se vogliamo, fondate forse sotto alcuni punti di vista ma sicuramente opinabili sotto altre. Noi ci siamo mossi da subito precedentemente e continueremo a farlo proprio per dare modo a questo servizio di trovare la giusta via, la giusta collocazione. I nostri controlli sono stati effettuati precedentemente e continueranno ad essere fatti. Proprio ieri mi sono recata negli istituti dove avviene il servizio di refezione e abbiamo constatato una qualità della carne sicuramente buona, confacente, identica a quella che io avevo assaggiato la settimana scorsa e facile da tagliare così come si vince da alcune immagini che stanno già girando in rete e altresì abbiamo riscontrato delle piccole criticità come per esempio la possibilità di dare un giro di olio in più nei passi qualora ci fosse servita la pasta in bianco. Queste criticità sono state puntualmente verificate e passate in via informale così come in via informale mi sono state consegnate ai referenti della ditta i quali mi hanno assicurato che questi accorgimenti saranno apportati. Ovviamente i controlli continueranno non solo così come è stata da parte del Comune di Gela ma anche degli altri organi di controllo come l'ASP, come il servizio veterinaria che hanno già effettuato dei rilievi presso tutti i centri di cottura e che ad oggi non hanno verificato alcuna anomalia. Stiamo cercando proprio di riformare l'intero servizio di mensa perché è chiaro che ci sono delle criticità che negli anni sono state accumulate che non sono mai state affrontate in maniera seria. Quindi una delle cose che sicuramente mi premerà assicurare per il prossimo anno è quello di creare un organo di controllo fatto anche da genitori che possa, se non con cadenza abbastanza ravvicinata poter assicurare la qualità dei passi e quindi poter sincerare anche ai genitori che è quello che avviene nelle cucine è insomma tutto molto sereno. Il procuratore Lucia Lotti dopo otto lunghi anni di onorato servizio abbraccia la città prima di partire per Roma dove andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di procuratore aggiunto. In una gremita aula del Tribunale di Gela colleghi e collaboratori che non celano commozione esprimono gratitudine ad una professionista magnifica e una grande donna. Gli interventi che si susseguono ne traccia nel profilo. Apre la cerimonia il presidente del Tribunale Paolo Fiore che di Lucia Lotti racconta fautrice di importanti cambiamenti e progressi come ad esempio l'informatizzazione dei processi novità che peraltro ha fatto guadagnare al Presidio Gelese la qualità di modello da seguire in Italia dotata di eccellenti caratteristiche che le hanno consentito di formare nuovi magistrati e creare così un team in ufficio di eccellenza. Segue l'intervento del prefetto Cucinotta che non manca di sottolineare come le donne facciano più fatica per affermarsi ma quando poi arrivano ai vertici nessuno più le ferma grazie alla forza di volontà e alla tenacia. Il presidente della Corte d'Appello ricorda il periodo difficile vissuto in procura precedentemente all'insediamento di Lucia Lotti e precisa che i magistrati avevano bisogno proprio di essere incoraggiati e coordinati da una guida sicura che nel procuratore hanno trovato. Il magistrato ricorda le inchieste mai avviate prima a Gela e intraprese invece da Lucia Lotti su salute, inquinamento e ambiente. Non trascura neanche di sottolineare la grande umanità della donna e lo splendido ed esemplare rapporto con i colleghi ma anche con tutte le forze sane della città in particolare con alcune associazioni e le scuole di ogni ordine e grado. Il procuratore generale Sergio Lari racconta lo stretto rapporto di collaborazione con la procura distrettuale in otto anni di attività. È la volta poi del presidente dell'ordine degli avvocati Emmolo che ricorda con quale energia la procura insieme al foro abbia intrapreso molteplici battaglie a favore del presidio di giustizia gelese per la copertura dell'organico e l'informatizzazione. L'avvocato esprime infine gratitudine a Lucia Lotti per aver amato Gela incondizionatamente. Molti altri rappresentanti istituzionali hanno voluto prendere parte alla cerimonia con un intervento. Il presidente della Camera Penale l'avvocato Giacomo Ventura il sindaco di Gela Domenico Messinese che ha donato un omaggio al procuratore il magistrato Antonio D'Antona e ancora il GIP Veronica Vaccaro che commossa descrive Lucia Lotti fulgido esempio della vera arte del comando con un encomiabile spirito di servizio. Intervengono tra gli altri e anche il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo che ringrazia il procuratore per i numerosi contributi umani e professionali alla scuola e agli studenti con i quali è stato intrattenuto un dialogo privilegiato ma l'intervento più atteso è il suo. Quello dell'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta Fernando Asaro indicato in attesa di ufficialità della nomina come il nuovo procuratore capo di Gela. Asaro con una garbatissima punta di ironia afferma riferirò di questa cerimonia e delle parole straordinarie dedicate a Lucia Lotti al nuovo procuratore che si insedierà magari rimedita la scelta. Certo il procuratore Lucia Lotti lascia a Gela un'eredità di inestimabile valore ogni pensiero a lei dedicato converge su un unico concetto generale lei è stata capace di essere un solido punto di riferimento per tutta la città onesta. Insomma una cerimonia quella di ieri un'usta di emozioni e anche commozione dedicata ad una donna prima che al procuratore che ha dimostrato giorno dopo giorno di amare Gela molto più di tanti gelesi noi della stampa non potremo mai dimenticare la conclusione del suo ultimo bilancio di responsabilità sociale quando le ultime immagini di un lungo discorso furono dedicate al patrimonio archeologico di inestimabile valore custodito a Gela nelle teche nei siti visitabili ma anche nei fondali marini e nel sottosuolo è da lì che Gela deve ripartire affermò in quell'occasione Lucia Lotti dalla sua ricchezza e dalla sua bellezza questo è il miglior augurio che una città come la nostra poteva ricevere Dottoressa un intervento veramente molto sentito si è anche commossa il primo ringraziamento a suo marito è stato veramente un momento molto bello per lei ma me lo lasci dire anche per tutti noi beh mi fa piacere insomma io ho parlato come si parla veramente a una comunità molto vicina che fa parte integrale integralmente del mio modo di essere della mia vita quindi ho parlato con l'idea che chi ascoltava era veramente in sintonia con il mio sentire il rapporto con la stampa è sempre stato un rapporto di rispetto ma anche di grande discrezione lei ha detto non ho partecipato ai salotti televisivi perché bisognava risolvere dei problemi ho telefonato in un giorno solo a tutte le autorità che potevano aiutarmi sì diciamo ci sono i salotti televisivi e c'è il lavoro della stampa quotidiano dei media quotidiano come il vostro che io ho sempre rispettato perché ho trovato veramente grande professionalità e grande correttezza nel vostro lavoro orgogliosa di aver contribuito a far crescere un po' questa realtà ma questo ho potuto fare perché c'è stata una grande sinergia perché ho trovato persone ho trovato professionalità che credevano nello stesso percorso abbiamo costruito abbiamo costruito tanto e quindi abbiamo lasciato un qualcosa che spero solido L'ordinanza emessa dal sindaco di Gela che impone a Caltacqua di distribuire l'acqua per usi domestici con le autobotti nelle zone del territorio comunale attualmente non dotate di rete di distribuzione prospetta una soluzione non confacente alla problematica in questione lo dice Caltacqua gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta che in una nota puntualizza che il servizio di approvigionamento idrico tramite autobotti non è contemplato tra gli obblighi stabiliti in capo al gestore richiamati dalla convenzione di gestione del servizio idrico integrato quanto poi alla previsione della carta del servizio è bene specificare dice Caltacqua che il ricorso alla distribuzione con autobotti può avvenire solo nei casi previsti da un apposito articolo che si occupa di interruzione del servizio nel caso specifico sottolineo ancora alla nota non si tratta di interruzione in quanto nelle zone in questione non è ancora stata realizzata nemmeno l'infrastruttura di distribuzione un simile servizio volto a soddisfare la legittima esigenza dell'utenza in prossimità della stagione estiva con il conseguenziale aumento dei residenti stagionali può essere previsto solo ed esclusivamente in forza di una specifica convenzione già il 15 aprile scorso Caltacqua ha provveduto a sottoporre al sindaco di Gela una proposta di convenzione con puntuale disciplina di compiti modalità operative e quant'altro indispensabile ad un buon funzionamento del servizio la proposta di convenzione non ha sin qui avuto alcun riscontro dagli uffici comunali l'obbligo immediato imposto a Caltacqua di provvedere al servizio di distribuzione con autobotti nelle zone non servite con la previsione di una rivalsa del comune sul gestore in caso di inadebbimento non potrebbe mai avvenire se non a condizione di violare la legge il servizio infatti va affidato a soggetti esterni e ciò richiede secondo la normativa vigente sui contratti pubblici il rispetto di un preciso iter e l'approvazione o ratifica da parte dell'autorità d'ambito in rispetto ai poteri alla stessa conferiti come richiamati alla convenzione di gestione Caltacqua nella nota ribadisce infine di avere già formalizzato una proposta al sindaco per l'espletamento del servizio in questione e rimane in attesa di riscontro per poter risolvere il problema degli abitanti di quelle zone con i proclami non si fa il pane il presidente dell'associazione dei pescatori del porto rifugio di Gela Davide Calabrese ribadisce ancora una volta che il porto gelese versa in stato di abbandono un fatto tristemente noto dopo l'indignazione suscitata dai fondi erogati per il porto di Marsala contrapposti al silenzio calato per il porto di Gela il presidente della regione il gelese Rosario Crocetta non trova meglio da fare che il solito proclama in favore del nostro porto ma rimarca Calabrese con i semplici proclami non si liberano le barche da un porto insabbiato non si realizzano le condizioni minime di sicurezza non si assolve il dovere dei pescatori nei confronti delle loro famiglie lavorare vogliamo che sia convocata subito la conferenza dei servizi che c'era stata promessa per l'inizio di aprile vogliamo conoscere dice ancora Calabrese i contenuti del protocollo attuativo tra Eni e regione Sicilia per capire che tipologia di investimento è prevista pretendiamo che vengano utilizzate le compensazioni così come previsto dal protocollo Eni sottoscritto il 6 novembre del 2014 al ministero dello sviluppo economico pretendiamo inoltre che i deputati regionali giolesi Giuseppe Arancio e Pino Federico diano seguito agli impegni presi nel corso dell'ultima riunione ad ogni modo anche se l'iter procedesse secondo quanto previsto da qui sino alla realizzazione degli interventi all'interno del porto come faremo ad uscire e quindi a lavorare chi ci garantirà un reddito dignitoso interrogativi che al momento non hanno risposte adesso il tempo è scaduto chiosa Calabrese i pescatori riuniti in associazione ed il comitato del porto di Gela si mobiliteranno al fine di promuovere le azioni che riterranno opportune per riprendersi la dignità di lavoratori sottratta da troppo tempo Dei vasetti in argilla raffigurante la gorgone distribuiti ai quadri dirigenziali e tecnici del Gela Calcio cerimone di premiazione questa mattina nei locali della Pinacoteca comunale la conquista della serie D è un altro tassello che si aggiunge alla cavalcata trionfale del club biancazzurro ripartito dalla terza categoria quinta promozione di seguito oggi veniamo a ricevere questo premio da parte dell'amministrazione è l'ennesimo anno che veniamo in questa stanza con grande orgoglio dopo un'annata di durissimo lavoro di grandissimi impegni i ragazzi ci hanno messo davvero anima e corpo per arrivare al risultato che abbiamo conseguito solo quattro giorni fa è un premio giusto è un ringraziamento che formalmente diciamo la città fa con il suo sindaco a nome della città proprio nei confronti di tutti i ragazzi che molti non sono di gela quindi è giusto avere anche sul piano formale questo momento di premiazione quanto è importante per te essere il capitano di un gruppo di un gruppo così solido amalgamato vincente credo intanto è un gruppo fantastico ne sono veramente orgoglioso e per me avere un gruppo così ti facilita anche il compito di gestire lo spogliatoio perché sono tutti bravi ragazzi vogliosi di lavorare e di migliorarsi e quindi anche per questo sono arrivati ottimi risultati la società biancazzurra ha ricambiato donando al sindaco e all'assessore allo sport la maglia ufficiale del Gela Gela Calcio rappresenta una parte importante della città compreso con i tifosi ha una sua evidenza economica ma non è sicuramente il predominante è chiaro che lo sport se è fatto bene è fatto con intelligenza può rappresentare una risorsa economica più uno stadio è accogliente più viene la voglia di seguire la gesta di una squadra di calcio è normale abbiamo bisogno di avere uno stadio all'altezza della quinta città della Sicilia piccoli interventi lo possono rendere più usufruibile da parte dei dei cittadini dei tifosi ed essere un biglietto da visita per tutta la città grazie a tutti Grazie a tutti.